Ieri il coordinamento istituzionale del piano di zona ambito S1 ha trovato l'accordo sulla ripartizione dei fondi PAC, i fondi europei. Il piano di zona dell'agro potrà utilizzare nello specifico 3 milioni e 200 mila euro ripartiti tra iniziative rivolte all'infanzia, 0-3 anni e servizi per garantire l'assistenza agli anziani dai 75 anni in poi. Nuovi asili nido verranno alla luce a Noceale Inferiore, in zona Grotti, negli spazi della scuola nuova di Zecca e mai consegnata all'utenza, a San Marzano sul Sarno e a Sant'Egidio del Monte Albino in una ex scuola materna. La struttura di Sant'Egidio servirà anche l'utenza del comune di Corbara, prevista poi la riqualificazione di strutture già esistenti a Sarno, Angri, Castel San Giorgio. Le somme restanti saranno a disposizione degli altri comuni dell'ambito che potranno così garantire sostegno alle famiglie che faranno richiesta del servizio di asilo nido e potranno erogare ad esempio dei voucher per accedere a strutture private. Per quanto concerne i progetti rivolti agli anziani, i fondi sono stati suddivisi in base al fabbisogno dei vari comuni. I punti cruciali, quelli che da tempo stanno dividendo gli amministratori in fazioni, saranno affrontate nella discussione già fissata per le 13 di domani. Resta da sciogliere fondamentalmente il nodo relativo alla nomina del coordinatore dell'ufficio di piano. Al momento, alla guida del piano, resta Gennaro Basile, congelata la posizione della coordinatrice nominata nelle settimane dietro, Rosa Zampetti. In piedi ancora è il ricorso presentato a suo tempo da una figura dirigenziale del comune di Angri dopo l'esclusione in fase di valutazione dei curricula. E c'è da guardarsi negli occhi poi per capire se davvero, come qualcuno dei sindaci sostiene in primis Montalbano, si è giunta l'ora di togliere a Scafati il suo ruolo di ente capofila. Siediamo una serie di sindaci molto molto responsabili, siamo tutti quanti per la verità, e di fronte a questi finanziamenti che non sono pochi, e di fronte al fatto che l'Agronocino Sarnese, alcuni comuni importanti, anche se piccoli comuni sono sprovvisti di queste strutture, mettiamo da parte i colori politici e altre cose, siamo seri, diamo risposte a una comunità intera, l'Agronocino Sarnese in questo momento insieme ad altre soffre tantissimo. Non è questione di cambiare il comune capofile, è questione di migliorare, dare risposte più veloci e dare certezza alla comunità. Se poi tutto questo deve anche passare attraverso la sostituzione del comune capofile, ben venga lo stesso Pasquale Liberti che si è sempre dimostrato disponibile, ma noi parliamo e diciamo le cose solo per migliorare i servizi.